Musica Decisa la chiusura della contestata moschea di via Fogazzaro a Mestre, l'edificio non è a norma, comitati insoddisfatti. Il governatore Zaia a Roma illustra il modello di gestione del Veneto, se in tutta Italia lo applicasse la sanità potrebbe risparmiare fino a 7 miliardi, dice. Il migrante cercava di entrare in Italia dalla Serbia, nascosto in un container di grano, è stato trovato cadavere a Porto Gruaro, morto per asfissia. Il dramma della 78enne di Marghera, costretta a vivere sola in un intero condominio, interviene l'assessore alla sociale Lanzarini, intervenga il comune, è compito suo. Rendere vaccini obbligatori e gratuiti per legge, la proposta del PD in regione, la legge 229 depositata a fine marzo, presentata oggi alla stampa. Carenza di personale nei nidi veneziani dopo la diffida dei genitori, la presa di posizione della consigliera comunale 5 Stelle La Rocca, intervenga il comune. 2500 i runners pronti a correre lungo la riviera del Brenta per la maratolina dei Dogi, partenza domenica alle 9 e un quarto da Fiesso d'Artico. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tg Venezia Mestre. In apertura si torna a parlare della moschea di via Fogazzaro a Mestre già per domani. La diffida poi a seguire potrebbero essere posti i sigilli. La moschea di via Fogazzaro sarà chiusa. La decisione oggi nel corso del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Il centro di preghiera non è in regola con le norme di carattere edilizio e con la destinazione d'uso dell'immobile stesso. Per come era appunto previsto, si è effettuato il relativo sopralluogo alla scadenza della prologa che gli era stata concessa in materia edilizia. Adesso i verbali sono negli uffici e si stanno facendo le valutazioni del caso, naturalmente proprio per far rispettare le regole e quello che le leggi prevedono. A violazioni accertate, l'attuale struttura, così come spiega la Prefettura, non consente la tutela degli stessi frequentatori e quindi il mantenimento dell'apertura. Nel corso del Comitato è stato deciso anche, visto la particolare frequentazione, l'implementazione nella via di telecamere di videosorveglianza. Una vittoria per i comitati residenti che a tutt'oggi hanno presentato contro l'esistenza della moschea ben 13 esposti. Da canto suo il Comune però guarda anche la comunità cingalese, ben integrata e insediata nel territorio. Va anche ricordato che ci piace o meno il diritto alla preghiera piuttosto che al culto, è un diritto che ognuno di noi ha. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. Per questo nei prossimi giorni saranno avviati i contatti con i referenti responsabili allo scopo di individuare nell'ottica del dialogo e dell'integrazione sociale dei luoghi alternativi per la preghiera. La questione della moschea di Via Fogazzaro intanto però arriva anche a Roma. La protesta dei residenti in Via Fogazzaro va sostenuta senza se e senza ma. E per questo il senatore di Forza Italia Giovanni Piccoli ha deciso di presentare un'interrogazione al Viminale. Una moschea mascherata da associazione culturale continua il senatore e parla di un problema sempre più diffuso e che va regolamentato in maniera puntuale all'insegna sia della libertà religiosa di ciascuno che della legalità e dell'ordine pubblico. Il timore, visti i recenti fatti di cronaca con la scoperta di una presunta cellula jihadista e che sotto la maschera dell'associazione culturale si possano nascondere veri e propri luoghi di culto che spesso sfungono ai controlli e possono diventare pericolosi focolai di fondamentalismo. Una volta Via Fogazzaro non era così, era tutto molto diverso a dirlo alcuni dei residenti. Noi non abbiamo veramente assolutamente niente contro di loro. Noi abbiamo solamente voglia che le regole siano rispettate. Come le rispettiamo noi, anche loro dovrebbero rispettarle. Abbiamo chiesto più volte se potevano magari far piano al mattino, se potevano rispettare qualche regola condominiale, ma non c'è stata storia. E il fatto che qui fosse diventata una moschea ha portato gravi danni in tutta la via. Questa qui era la migliore zona di Mestre, perché avevamo linee ogni cinque minuti, autobus, treno vicino, aeroporto. Era la migliore via di Mestre. Adesso è una delle peggiori? È diventata una delle peggiori. Una convivenza più giusta, un adeguamento da parte, un rispetto delle regole. Questa è la ricetta giusta. Non capisco il prefetto sinceramente. Il prefetto è il primo responsabile della sicurezza della provincia, perché il prefetto sarebbe il rappresentante del governo della provincia di Venezia e non tutela i cittadini così. La zona, questa qua, mia mamma e i suoi genitori ancora si sono trasferiti qui, appunto, perché era considerata una bella zona. E adesso vedete anche voi, insomma, che non è poi così vivibile, insomma, adesso. C'è gente che ha paura. I ragazzi e le ragazzine, soprattutto, passano di corsa questa via. È stretta sulla sicurezza in arrivo telecamere di nuova generazione a sorvegliare le zone critiche della terraferma. In particolare, Mestre e Marghera sono stati infatti stanziati dal Comune. 200 mila euro per il progetto. Gli occhi elettronici sorveglieranno giorno e notte, Piazzale Candiani, via Fogazzaro, via Cappuccina, in prossimità della stazione Ferroviaria, Parco Bissuola, le zone calde dove in particolare si sono rilevate situazioni di spaccio, degrado e marginalità che poi incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini. La decisione è stata annunciata durante il Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto questa mattina. Parliamo ora di sanità. Il governatore Zaia ha illustrato a Roma il modello di gestione del Veneto. Se fosse lui il commissario della sanità italiana, lo Stato risparmierebbe quasi 8 miliardi. Non ci sarebbero disomogenità tra regioni e soprattutto non sarebbe tollerato il buco di alcune amministrazioni, considerando come l'89% del rosso a livello nazionale sia a firma di sole 5 regioni. In soldoni, è il caso di dirlo, è il discorso che il governatore Luca Zaia oggi ha fatto muso duro al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ricordando poi come il Veneto sia l'unica regione a statuto ordinario a rispettare i parametri imposti a livello nazionale. A Roma, infatti, il presidente del Veneto ha consegnato lo schema del risparmio in occasione del Vertice al ministero sull'ipotesi di cancellare il super ticket nazionale di 10 euro e tutti i ticket regionali. Su questo, a proposito, Zaia si è detto favorevole, aggiungendo «è facile per noi perché il Veneto non applica ticket regionali e tutti quelli che si pagano sono nazionali». Insomma, il metodo Zaia applicato su scala nazionale farebbe risparmiare, conti alla mano, 7 miliardi e 567 milioni. Le cinque regioni imputate, ha detto poi, «curano male, spendono troppo ed esportano pazienti in altri territori con costi che deve pagare l'intera collettività». Usando il nostro metro operativo, aggiunge Zaia, il paese potrebbe risparmiare 1 miliardo e 350 milioni di spesa farmaceutica, 4 miliardi sui costi giornalieri di ricovero, 1 miliardo e 400 milioni sulle gare d'appalto, 800 milioni sulla gestione dei ticket e ancora 17 milioni di spesa per il personale utilizzando la gestione informatizzata. Si avrebbero inoltre 1 milione di ricoveri in meno senza rinunciare all'alta qualità delle cure. «In generale i costi standard applicati a livello nazionale su tutti i comparti, cioè se applicassimo la virtuosità del Veneto a tutta Italia, si risparmierebbero 30 miliardi di euro che sono praticamente un terzo dell'interesse sul debito pubblico». «Si torna a parlare del referendum per l'autonomia sulla questione, interviene anche la Will». «Se chiediamo a tutti i Veneti, tutti i Veneti sono, siamo tutti d'accordo di avere maggiore autonomia». Veneti favorevole all'autonomia e la Will lo dà per scontato alla Regione. Il Governatore chiede però di spiegare su quali temi, visto che la Costituzione elenca quelle che sono le materie di competenza regionale. Un referendum che costa la collettività, passato da uno stanziamento di 4 milioni a 12, fino agli attuali 14 milioni di euro, cifra astronomica che il sindacato contesta». «Vol dire tempo perso e denaro sperperato. Noi diciamo che quei 14 milioni, quei 12 o 14, debbano servire magari per dare spazio ai giovani, per creare delle borse di studio». «Per la Will la strada che il Governatore sta percorrendo è fine a se stesso e lo invita a muoversi diversamente». «Se Zaia vuole soltanto farsi campagna elettorale, diciamo, è un errore enorme perché tutti i Veneti sono d'accordo di autonomia che apre da subito una trattativa con Roma». «Un referendum, insomma, inutile per il sindacato, tanto più dice che se la Regione vuole, nelle materie di sua competenza, può già legiferare, come peraltro ha dimostrato di saper fare». «Le cose che si vogliono fare, l'abbiamo visto per quanto riguarda materie, diciamo, per la scuola, hanno già legiferato come Regione, quindi non c'è tanto da andare in giro. Se c'è la volontà politica di fare, si faccia senza sperperare denaro pubblico». «E per quanto riguarda il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, oggi il Consiglio metropolitano ha seguito la giunta di Caffarsetti votando a favore per l'impugnazione della delibera regionale che invece aveva giudicato meritevole l'istanza del referendum». «E ora torniamo a parlare della dramma di un'anziana di Marghera che vive da sola all'interno di un condominio. Avevamo segnalato il caso la scorsa settimana, oggi abbiamo intervistato l'assessore regionale al sociale». «Sabato abbiamo raccolto il dramma di una pensionata di Marghera, la signora Sandra De Pazzi, 78 anni, che per una serie incredibile di vicissitudini altrui si trova a vivere completamente da sola in tutto il condominio di una casa comunale di via Beccaria. Vive terrorizzata in preda al panico e all'ansia viste le continue incursioni di vandali, ladri e sbandati. Ha chiesto il nostro aiuto perché possa trovare una nuova residenza. A nostra volta ci siamo rivolti all'assessore di reparto in regione. Ecco cosa ci ha risposto». «Il condominio non è di pertinenza dell'Ater ma è del Comune di Venezia, quindi la signora dovrebbe, se non l'ha già fatto, rivolgersi al Comune di Venezia, capire se il Comune di Venezia è disponibile, ha una mobilità all'interno dei propri alloggi e poi capire se la signora è all'interno di una graduatoria, se è una graduatoria comunale o una graduatoria Ater. Spieghiamo che l'anziana, per il tramite dei figli, si è già rivolta al Comune, agli uffici Ater nello specifico, ma la domanda sarebbe stata rigettata e ci sarebbe di peggio. L'assessore comunale sembra si sia continuamente negato alla richiesta di un incontro chiarificatore con la famiglia dell'anziana. «Gli alloggi dell'Ater sono sempre di spettanza comunale», replica la Lanzarin. «Come a dire, una risposta sta da dare e si deve dare». Per cui alla fine credo sia il Comune, in questo caso, che deve prendersi a cuore questa situazione e cercare di trovare una soluzione. Insomma, mi auguro che lo faccia anche in tempi brevi, vista la situazione un po' particolare. Vaccini obbligatori per legge, questa è la proposta della Gruppo Regionale Veneto nel PD. Noi riteniamo che, soprattutto per i casi recenti in cui i bambini sono stati infettati da virus quali il morbillo, sia necessario reintrodurre la vaccinazione obbligatoria che va estesa non soltanto ai quattro vaccini obbligatori, ma a tutto il calendario vaccinale regionale. E la proposta di legge depositata a fine marzo scorso è presentata oggi alla stampa del PD regionale Veneto per il tramite di Alessandra Moretti. Tra i punti essenziali, l'estensione della copertura non soltanto ai residenti in Veneto, ma anche a tutti i domiciliati nella nostra regione che ne facciano richiesta vaccinazione obbligatoria e gratuita anche al personale che lavora presso asili, scuole e strutture sociosanitarie. Questo lo facciamo non soltanto per tutelare i figli, i nostri figli, ma soprattutto per tutelare i bambini più fragili. Non si può fare dell'etica una legge, controbatte la Lega con il presidente della Commissione Sanità in Regione. Io vedo che ci sono regioni in Italia che hanno l'obbligo vaccinale e hanno coperture vaccinali minori del Veneto. Quindi vuol dire che la legge Veneta sulla vaccinazione è una legge corretta, che va nel senso giusto, dà comunque la possibilità di decidere al cittadino e nello stesso tempo però informa. Un migrante è stato trovato morto in un vagone di un treno merci. Nascosto in un silos di grano dalla Serbia, sperava di arrivare in Italia per trovare una nuova ragione di vita. Invece ha trovato la morte, probabilmente per asfissia. Il dramma a carico di un migrante è ritrovato privo di vita nella notte dentro un carro silos di grano alla Cerial Docks di Summaga di Portogruaro. Una morte atroce, confermano gli investigatori. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto l'autopsia sul cadavere. Carenza di personale nei nidi veneziani. C'è una diffida da parte dei genitori. Ne parliamo con la consigliera comunale 5 Stelle, Elena La Rocca. Le educatrici dei nidi veneziani sono risicate all'osso. Mancano le supplenti e quindi nel momento in cui si chiede una copertura, quelle presenti si spostano da una struttura all'altra. La situazione sta diventando insostenibile per i genitori che in segno di protesta hanno fatto però la mossa sbagliata, dichiara la consigliera La Rocca, che si sta occupando della vicenda da tempo. Evitando di compilare un modulo di customer satisfaction con il quale l'amministrazione chiede ai genitori com'è il servizio e purtroppo però non compilando questo modulo hanno involontariamente inciso negativamente sulla produttività delle educatrici, quindi su quella parte di salario che viene data per merito. Probabilmente i genitori non sapevano che quel modulo andava a determinare la loro produttività. Quindi hanno penalizzato involontariamente le educatrici e io chiedo con una mozione che venga rivalutata la produttività. Ho presentato questa mozione all'ultima votazione su una variazione di bilancio e mi è stata negata la trattazione dicendo che non era attinente alla variazione di bilancio quando c'era la voce produttività dei dipendenti. Ma non è tutto. C'è una diffida di oltre un anno fa con cui i genitori di tutti i nidi chiedono all'amministrazione che sia mantenuto il rapporto numerico tra educatrici e bambini che allo stato attuale non è rispettato secondo l'interpretazione della regione della normativa regionale stessa. La richiesta dei 5 Stelle è chiara. Noi chiediamo l'assunzione del personale necessario per garantire il rapporto numerico all'interno degli asili per garantire le supplenze senza che nessuno venga spostato e per far sì che il servizio quindi sia di qualità e in sicurezza. 2.500 runners sono pronti a correre domenica la maratonina dei doji. Si parte da Fiesso d'Artico domenica alle 9.15 sono già in 2.500 i runners che prenderanno parte alla maratonina dei doji giunta alla ventesima edizione. Abbiamo uno dei percorsi più belli in assoluto tra il verde dei parchi centenari delle ville venete e le ville venete stesse che fanno da quinta da scenografia straordinaria per tutti gli atleti. Davanti ci sono i top runners, quelli che daranno vita ad una gara quest'anno tecnicamente molto valida abbiamo un gruppetto di atleti naturalmente keniani che viaggeranno sul tempo dell'ora di gara ricordiamo che il record del mondo è di 59 minuti e quindi siamo veramente a livello internazionale però dietro ci sono gli oltre 2.500 atleti che correranno col naso all'insù godendosi la riviera del Brenta straordinariamente in fioritura domenica 9 aprile. Non mancheranno ovviamente gli eventi collaterali come la simpatica corsa sui tacchi a spillo. Anche quest'anno ci saranno queste meravigliose donne che come solo le donne sanno fare correranno sui tacchi e sfideranno la piazza di Fiesto d'Artico dove tutto è preparato per festeggiare i 20 anni di Maratonina dei Doji con una vera e propria maratonina di shopping infatti molti negozi hanno aderito e aspettano i runner per dare il massimo dei servizi e dare quel valore aggiunto che solo l'evento di Maratonina dei Doji anzi della Doji's Half Marathon ricordiamocelo perché lei è diventata la Doji's Half Marathon e sa dare un valore aggiunto di un territorio che crede e fa vivere e migliorare sempre di più questa meravigliosa manifestazione. E torna l'appuntamento con Focus questa sera a partire dalle 21.05 ospiti del direttore Luigi Bacialli saranno Jacopo Berti, Leonardo Padrin, Alberto De Franceschi Leopoldo Bottero, Damiano Gottardello, Andrea Vianna, Mattia Perencin e Stefano Tigani come sempre potrete intervenire inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata, arrivederci. Le previsioni per domani Modesta variabilità con cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti verso est al mattino e sui rilievi nel pomeriggio Precipitazioni generalmente assenti salvo possibili locali piovaschi o rovesci Temperature in leggera diminuzione salvo lieve aumento dei valori massimi sui settori più occidentali della regione Grazie a tutti